Tutto è pronto per l'avvio di questa partita Dicevamo che ai Delfini serve la vittoria per dare continuità Dirige il signor Michele Ruggiero di Roma 1 Coadiuvato da Bottiglia di Campobasso e Carrelli anche lui di Campobasso Palla al limite del Siano, il tiro di Siano, rete! Rete, rete! Che gol Siano, che gol Siano! Bellissimo, bravo Siano, l'Agropoli è in vantaggio Ecco l'inizio del secondo tempo Lungo, colpo di Osterrete! Rete! Rete di Beretti e l'Agropoli raddoppia finalmente 2-0, davvero gol meritato Anche per lui Bellissimo il gol di Beretti 2-0 per l'Agropoli Posizione regolare di Alleruzzo Che si presenta davanti al portiere E segna il gol 3-0 Il 3-0 Chiude la partita definitivamente Vittoria strameritata dell'Agropoli Grazie! 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 Grazie!